Premio il Davide Di Bernini 2015 al maestro Cavaleri Antonia Eleonora Allora, un grande piacere ritrovarci dopo tanti anni Ogni anno, tranne l'anno scorso, ho avuto problemi Sì, appunto, sono orgogliosa e questo premio mi riempie il cuore di gioia Prima ero premiata dall'associazione Oggi dall'Accademia Mi inorgoglisce ancora di più la cosa Faccio tanti complimenti a tutti gli artisti Penso che l'arte non ha né età, né colore Né nient'altro che l'amore che deve essere il centro del mondo Perché oggi come oggi tutti sogniamo la pace, la serenità per le nostre famiglie, per i nostri giovani soprattutto La signora è una insegnante siciliana, quindi quell'area mediterranea ricca di colore e di arte Conseguiamo il premio, grazie